una nuova perturbazione atlantica in transito sul bacino del mediterraneo centrale anche sulla nostra penisola portando con sé piogge localmente anche di forte intensità e temporali dopo il suo passaggio pressione di nuovo in aumento in toscana sabato 26 novembre molto nuvoloso coperto con piogge sparse tendenza schiarite dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio fino a cielo sereno poco nuvoloso venti nord orientali moderati o forti su arcipelago e litorale centro meridionale moderati altrove mari mossi o molto mossi a largo in genere poco mossi sotto costa temperature minime in aumento massime in calo sul territorio provinciale molto nuvoloso con piogge temporali fino al mattino migliora nel corso della giornata con cielo sereno localmente velato a lucca e sulla piana temperatura minima 6 massima 14 gradi a castelnuovo garfagnane zone montane minima 4 massima 13 a via regge sul litorale minima 7 massima 16 gradi domenica cielo sereno velato con addensamenti sull'appennino orientale grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!